Favolosa ribellione e resistenza quotidiana, non solo all'homo, bi, lesbo, transfobia, ma anche al razzismo e al sessismo e alla cultura dell'odio. Presentazione ufficiale nella sede della Presidenza regionale del Toscana Pride 2019, in programma sabato 6 luglio a Pisa. Tema dell'anno, dai moti di Stonewall del movimento gay statunitense del 1969 al primo corteo LGBT autorizzato dalla questura di Pisa dieci anni dopo. Presenti quest'anno alcune icone del movimento internazionale italiano, come Porpora Marc Asciano, presidente onorario del movimento Identità Trans, Andrea Pini, attivista del collettivo Orfeo, Silvia Rivera e Marsha P. Johnson, protagoniste proprio di Stonewall. Sarà sicuramente una manifestazione per la quale prevediamo una grande partecipazione. quest'anno ci sono circa 180 adesioni e 11 carri in parata, che per noi è un abbastanza un record. La regione toscana è da tantissimi anni, dal 2004, anno in cui ha promosso e divulgato una legge particolare che riguarda i temi della lotta all'omofobia, tutto il tema che si festeggia a Pisa il 6 di luglio e non poteva mancare la regione toscana anche quest'anno, visto che anche nelle altre città negli anni passati la regione è stata sempre presente in modo istituzionale alla manifestazione. Il 5 luglio, alla vigilia del corteo nel cantiere San Bernardo, dove 40 anni fa si concluse la prima parata pisana, si terrà l'evento Favolose Ribelli, con Porpora Marcasciano e Andrea Pini.